Svolta per la realizzazione della Mattei Pieve, considerata la principale incompiuta viaria degli ultimi anni del Comune di Macerata. Ieri a Roma è stato firmato l'accordo tra Spacca, Pettinari, Carancini e Perosino, presidente della Quadrilatero. A sbloccare la situazione è stato l'incremento economico stanziato da regione e provincia che hanno alleggerito il costo per il Comune. I tre enti metteranno 3 milioni a testa. Abbiamo provato a convincere gli altri enti che questa fosse una infrastruttura determinante e fondamentale per completare il quadro viario della città. E quindi la regione l'ha assunta come tale e quindi ha investito oltre 2 milioni e 300 mila euro più di quello che aveva già previsto. La provincia ha raddoppiato il suo impegno e il Comune di Macerata fa la propria parte da questo punto di vista, restando con un impegno finanziario di 3 milioni. A ciò si aggiunge la Quadrilatero che è un valore non solo economico e finanziario ma anche sotto il profilo procedimentale perché l'integrazione con il lotto relativo alla Quadrilatero tra Campogiano e Lapieve naturalmente attribuisce la possibilità a questo lotto tra Via Mattei e Lapieve di integrarsi con la legge obiettivo e quindi di far sì che sia un unico appalto dentro la legge obiettivo con le possibilità di accelerazione e semplificazione in termini di procedimento e questo naturalmente farà sì che l'opera potrà essere realizzata in maniera meno complicata di come sarebbe se fosse stata fatta con la stazione appaltante solo del Comune di Macerata. E il cronoprogramma realistico quale sarà? Il cronoprogramma realistico è complicato dirlo, io credo che una chiarezza più precisa l'avremo nella prima conferenza di servizi che è già fissata per giugno-luio del 2014 quindi da qui a due mesi. Io voglio sottolineare come questo davvero sia un punto di partenza concreto, è una svolta.